Peppino. Peppino. Oh, fratelli intomabili. Un guasto al motor. Ho chiesto a delle persone che cos'è la ma... che cos'è la mafia? Rispondetemi che cos'è! Perché io ho fatto un male, quello e quello mi spara. Mi puoi rispondere? Eh, papà, un nevo. Non ti stancherai mai di mancarmi di rispetto, papà, se non ti piace, non lo leggere! Peppino. I divini non si finisce di stringere la mia mano! Come le ansi, Peppino, come le ansi... I divini! La mafia... non esiste. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!